È un progetto ambizioso ma noi pensiamo che è un progetto di mobilità sostenibile a cui tanti cittadini e del resto i commenti positivi di questi giorni ce lo confermano potranno fare un utilizzo e quindi spostarsi con la bicicletta da un punto all'atto della città. Nel parcheggio di Piazza Economo di Saino Mobilità o presso le tre ciclostazioni o online sarà possibile sottoscrivere un abbonamento, ritirare la tessera ricaricabile e da quel momento in poi attraverso l'utilizzo della colonnina presente in ogni ciclostazione poter prendere la propria bici e spostarsi come si vuole. La cultura ovviamente più si utilizzeranno biciclette più favoriremo l'utilizzo più migliorerà anche la concezione e la comprensione che i cittadini hanno dei ciclisti e per le piste ciclabili inizieremo un'attività di recupero per metterle nelle migliori condizioni di utilizzo.